Capisco la passione che ci mettete in me, è una passione mal spesa. I francesi non lo diranno mai, e se qualche giornalista insiste, qualche incidente in me. Sopra il tavolo o sotto il tavolo? Non è che tu il sotto il tavolo lo devi spiegare tutti i giorni, ci sono delle cose che non possono e non devono avere delle risposte.